MASTRO TITTO Inoltre l'attivazione di tale missione secondaria ci permetterà anche di sbloccare poi una futura attivazione di un'altra missione secondaria conosciuta come Idiot Savant ma la vedremo nel prossimo episodio. In questo invece intanto parliamo con Pascal ed ascoltiamo che cosa da dirci. Salve 9S, qualcosa di turba? Volevo chiederti una cosa. Chiedi del pacifismo. Ah, vuoi sapere perché gli abitanti di questo villaggio odiano combattere? Beh, è un concetto complesso ma in sostanza credo che il conflitto abbia cessato di avere un significato per noi. Puoi spiegarti meglio? Noi Biomacchine siamo armi create per muovere guerra, ciò nonostante questo conflitto prosegue da tempo e non se ne scorge la fine. Ci siamo resi conto che il prezzo da pagare come individui per combattere questa guerra supera i benefici che otterremo con la vittoria quindi non ne vale la pena. Ritengo che giungerà il giorno in cui androide e Biomacchine potranno convivere pacificamente. Novesse risponde, non mi pare probabile. Parliamo ancora con lui e stavolta gli chiediamo, chiedite la vita al villaggio e ragazzi lo so che questa parte può sembrare un po' noiosetta ma è obbligatoria per poi accedere alla missione secondaria. Vuoi sapere della nostra vita quotidiana? Beh, come sai, siamo Biomacchine. Non abbiamo bisogno di cibo o sostentamento. Il nostro nucleo ci fornisce scorte di energia pressoché infinite. Tuttavia, nel tempo ci deterioriamo, il che significa che ci servono pezzi di ricambio e che effettuiamo varie riparazioni. Ma non ci questiamo spesso. Essere onesto, la vita al villaggio è piuttosto monotona. Gli parliamo per un'ultima volta e gli chiediamo, in questo caso, chiedite il negozio. Perché c'è un negozio nel tuo villaggio, Pascal? Voi altri non usate denaro? Oh, certo che lo usiamo. La nostra valuta sono i materiali grezzi. Tutte le biomacchine sono uguali. Non seguiamo schemi capitalistici, obsoleti. La nostra economia si basa sul baratto, in base alle necessità. È una lezione che abbiamo appreso dalla storia passata dell'umanità. Affascinante, non trovi? Insegniamo ai nostri figli i vari sistemi economici. Se l'argomento ti interessa, puoi approfondirlo con loro. Parliamo ancora una volta con Pascal e... Ehi là, tendrebbe da aiutarmi con un progetto. E, attenzione ancora una volta, ragazzi. Quando lui ha detto, il sistema economico, parlane con i nostri figli, è proprio da lì che in realtà si è andata poi a rendere disponibile Idiot Savant. Non prima di quello. Ma comunque proseguiamo con dati sul vecchio mondo. Vorrei che raccogliessi informazioni sul vecchio mondo. Ah, sì? E perché? Vorrei impiegare la conoscenza del vecchio mondo per migliorare la qualità della vita degli abitanti del villaggio. Ovviamente condividerò le mie scoperte con te. Allora, che ne dici? Aiutiamolo. Grazie mille. Se trovi qualcosa di interessante, fammelo vedere. Ed è così che abbiamo accettato la missione secondaria dati sul vecchio mondo, che, a differenza di tantissime altre missioni secondarie, crea problemi nei giocatori proprio perché non ha dei punti di riferimento. Cioè, sembra che tutta la mappa di gioco sia questa missione. E in realtà, in parte lo è, perché molte cassette che abbiamo anche aperto insieme, quelle classiche con il catenaccio e il lucchetto tramite manomissione, contenevano degli oggetti piuttosto banali, come biglietti, volantini, patenti, eccetera, eccetera. E sono documenti, chiaramente, del vecchio mondo. Se noi consegniamo questi documenti, a Pascal otterremo una ricompensa in denaro. Ma non completeremo mai tale missione secondaria, perché per completarla dovremo andare a prendere un oggetto specifico in un posto specifico. Da lì inoltre, questa missione è tanto particolare proprio perché avremo modo di decidere se consegnare quell'oggetto a Pascal oppure al comandante al bunker, quindi doppia scelta per una diversa ricompensa. Intanto parliamo con Pascal. Dice, sono queste le informazioni sul vecchio mondo che cercavi? Ah, grazie mille, i dati sull'umanità sono sempre affascinanti. So che non è molto, ma ti prego di accettare. Prendiamo 7000G. Sono comunque soldi in più, non ci servono, ma... Era giusto per farvelo vedere come completezza anche di spiegazione. Quindi, fatto questo, ci dirigiamo direttamente sul posto dove è l'oggetto che ci permetterà di concludere positivamente questa missione secondaria. Di qui, ragazzi, praticamente siamo proprio all'uscita del villaggio di Pascal. È proprio da questo punto che voglio farvi una guida passo passo estremamente dettagliata dove si trova la cassetta, che in realtà è molto vicina ed è molto facile da raggiungere. Ma questo vale per chi già conosce l'esatta posizione. Per chi non ha mai fatto tale attività, non l'ha mai vista. Ovviamente è un inferno capire dov'è questo oggetto non avendo alcun tipo di punto di riferimento sulla mappa o alcun tipo di info o segnalazione. Per cui, andiamo dall'uscita sempre dritti. Prendiamo come punto di riferimento il tralliccio in metallo di fronte a noi e continuiamo ad avanzare. Evitiamo anche i combattimenti con le varie biomacchine, tanto non ci serve. E di qui, sempre avanti, possiamo vedere un edificio composto da due parti una più bassa e una più alta dove al fianco c'è una grossa radice e delle biomacchine che sono un po' fastidiose, ma niente di che. Al che quindi prendiamo queste radice di fronte a noi e saliamo. Cosa che in realtà nella nostra serie non è che abbiamo fatto molto spesso. Di qui, scendendo, ci troviamo di fronte a molti nemici. Volendoli possiamo affrontare, volendoli possiamo saltare. Sapendo che io sono estremamente belligerante, aggressivo e guerrafondaio le andiamo a distruggere tutte quante anche per mettere un po' più di pepe di gameplay all'interno di questa missione secondaria. Ovviamente molte biomacchine sono equipaggiate con degli scudi in metallo e quindi non sentiranno i danni del programma 080 Honda così come degli altri attacchi di pod. Possono essere danneggiati soltanto da attacchi fisici. Fa una volta rimosso lo scudo, è tutta un'altra storia. Quindi passiamo direttamente alle mani missioni. Approfittiamo sia dell'area di impatto più grande con sempre il chip stordimento più 4 che è eccezionale sia del fatto che chiaramente possiamo andare a stordire i nemici che vengono colpiti. Grazie a tutti. Eliminato anche l'ultimo avversario facciamo una bella pulizia della zona raccogliendo tutti i droppini a terra o eventualmente chip sempre nella speranza di prendere qualche oggetto interessante come lega di titanio ha fatto male davvero ottimo oggetto di qui in realtà prima di scendere possiamo fare una brevissima deviazione e salire su queste scalette così che in fondo recuperiamo anche il contenuto di questa cassa semplice con balsamo, velocità grande, sempre un oggetto di consumo e di qui si scende proprio scendendo qui sotto all'estremità della stanza troviamo per l'appunto la cassetta chiusa con catenaccio e lucchetto andiamo a manomettere compiutiamo il minigame facilissimo ed al suo interno troviamo come contenuto un oggetto archivio manuale armi nucleari e la missione finalmente si aggiorna di qui cosa facciamo? andiamo ad aprire il menu andiamo su missioni, missioni attive e vi leggo le info che ci sono per quanto riguarda questa attività al di là della prima parte ormai è stata completata in grigio in realtà la parte ancora attiva è questa qui sotto che le informazioni riguardavano delle armi nucleari del vecchio mondo se finissero nelle mani sbagliate potrebbero provocare conseguenze inimmaginabili è meglio consegnarle al comandante consegni dati relativi alle armi nucleari a Pascal o al comandante quindi è una nostra scelta come vi dicevo all'inizio missione in base alla nostra scelta quindi o Pascal o il comandante avremo delle ricompense diverse non accadrà mai che esplode una bomba atomica in nero tomata consegnando magari all'uno o l'altro questa cosa quindi possiamo stare tranquillissimi però cambia la qualità, il valore della ricompensa cosa voglio fare adesso? voglio mostrarvi entrambe le alternative poi sappiamo già da adesso che una è molto meglio dell'altra però lascio comunque a voi carta bianca liberissimi di scegliere quello che preferite per far questo specifico ancora più di una volta a livello tecnico che dopo aver consegnato al primo personaggio caricherò la mia partita da qui e andrò a consegnare all'altro perché ragazzi consegnate il pacchetto quindi le informazioni ad un NPG non possiamo poi farlo anche per l'altro quindi è a senso unico la missione fatta la scelta non si torna più indietro quindi per darvi massima possibilità di scelta e libertà vi mostro entrambi le alternative quindi in questo primo caso ce ne andiamo da Pascal ah vediamo sono informazioni veramente preziose sì la fissione nucleare è una tecnologia andata perduta molto tempo fa per fissione si intende la divisione fusione unisce, fissione divide presenta molte sfide tecniche per non parlare di devastanti effetti sull'ambiente per questo i nostri creatori nascosero questi dati mi spiace 9S non posso accettare questa informazione è semplicemente troppo pericolosa eh? ma comunque grazie per averla portata alla mia attenzione permettimi di ricompensarti con questo un balsamo abilità grande un chip rilascio cura più 6 un recupero grande 3 dati puliti 3000 g e 1300 punti esperienza ed è così che la missione è stata aggiornata 9S se mi rifiutassi di conoscere le armi nucleari e il nostro villaggio fosse distrutto in un ipotetico futuro la mia gente me ne farebbe una colpa non lo so Pascal non sta a me dirlo capisco ed è così che la missione secondaria dati sul vecchio mondo è stata completata per cui Pascal conoscendo tale informazioni ha rifiutato di accettarle per non creare problema alla propria comunità e abbiamo visto ciò che ci ha dato dei materiali di buona qualità e di buona rarità quindi comunque niente di male però con l'altra alternativa andiamo a vedere che cosa sarebbe successo nel caso in cui invece decidessimo di consegnare questo manuale sulle armi nucleari al comandante non dovremmo fare altro che raggiungere il punto d'accesso all'accampamento della resistenza interagire con quest'ultimo fare trasporto e selezionare bunker si novesse? dimmi pure comandante ho scoperto dei dati provenienti dal vecchio mondo che includono informazioni sulla fissione nucleare non sapevo cosa farci quindi armi nucleari giusto? come probabilmente saprai per ordine del consiglio dell'umanità c'è stato puribito l'utilizzo di armi nucleari però mi sono sempre chiesta perché anche le biomacchine sembrino rispettare lo stesso divieto è un enigma che potrebbe restare senza soluzione ma penso sia comunque meglio conservare i dati ricevuto ottimo lavoro novesse anche se non dovrei ricompensarti per aver svolto il tuo dovere quando mai farò recapitare delle risorse nella tua stanza grazie comandante ed è così che abbiamo aggiornato la missione anche in questo caso dati sul vecchio mondo e l'abbiamo anche automaticamente completata per cui non ci resta altro che tornare nella stanza di 9S e vedere qual è la nostra ricompensa in questo caso c'è un droppino lo andiamo a raccogliere che in realtà si rivela essere stordimento più 6 come chip meteorite recupero grande 5000 g ovviamente ragazzuali come vi dicevo qualche minuto fa da parte mia c'è sempre il lasciarvi la massima libertà di scelta ciò che scegliete è la cosa migliore perché è quella che sentite la conseguenza più vostra la cosa più naturale che vi viene da fare se però mi posso permettere per una volta di darvi un consiglio e darvi una mano per fare il meglio possibile di quello che possiamo per l'appunto è di scegliere di consegnare il manuale delle armi nucleari proprio al comandante perché la ricompensa del comandante anche se sono meno oggetti sono estremamente più importanti e rari rispetto a quelli che ci dà Pascal oltre al fatto che per come abbiamo costruito il nostro personaggio in questo caso 9s lo stordimento più 6 è tantissima roba già utilizziamo il più 4 avere un più 6 che forse costa anche meno spazi poi vediamo insieme è il top delle possibilità di meglio non potevamo sperare oltre al fatto che in tutto questo non soltanto potenziamo di tanto il nostro personaggio nel presente quindi adesso con il chip ma avrà anche un potenziamento futuro molto consistente perché abbiamo ottenuto l'oggetto meteorite che è estremamente raro e così come perla nera e altri materiali è fondamentale per il potenziamento a più 4 di alcune armi probabilmente alcune tra le quali le andremo anche ad utilizzare come proprio nostre armi importantissime in combattimento quindi se posso dirvi che cosa scegliere meglio il comandante che non Pascal detto questo ce ne andiamo immediatamente su i chip inseribili vediamo quanti spazi costa questa volta lo stordimento più 6 e se riusciamo lo sostituiamo allo stordimento più 4 costa 16 spazi ed è più 6 mentre il più 4 costa 17 quindi per avere uno scoppio di 5 metri in più e uno stordimento di mezzo secondo in più consumiamo uno spazio in meno quindi intanto rimuoviamo il più 4 e ci andiamo a mettere il più 6 e quindi ragazzuoli detto fatto e vista anche questo non mi resta altro da aggiungere che anche per l'ottantottesimo episodio della nostra serie di nero tomate tutto si conclude qui io come sempre vi ringrazio dal tempo che mi avete dedicato e spero in qualche modo di esservi stato d'aiuto al prossimo video ciao ciao